Nel video di oggi parliamo di Canon EOS R10, una fotocamera che vi avevo promesso avrei portato prima o poi sul canale e quel giorno finalmente è arrivato. Nel corso del video di oggi andiamo a esplorare il suo menu, vi farò vedere io come l'ha imposto per fare foto e per fare video. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere, di fotocamere ne utilizzo tante, il mio brand di riferimento è Canon e quindi sono molto contento di portarvi oggi un'esplorazione del menu di questa fotocamera, andremo a vedere gran parte delle sue funzioni, le funzioni di cui non vi parlo è semplicemente perché io non le uso, per cui se volete approfondimenti chiedetemi lì nei commenti qui sotto. Vi invito anche a iscrivervi subito al canale così poi non vi perdete eventuali corollari, risposte o ulteriori video su questa e su altre macchine. Comincio subito col dirvi una cosa di questa fotocamera, io la sto provando da una decina di giorni, giorno più giorno meno, la cosa di cui sono molto contento è la disposizione delle ghiere, perché a differenza di macchine che ho già provato in vita mia e che sono magari un po' più entry level, con questa abbiamo ghiera dei tempi, ghiera dei diaframmi e con il control ring sull'obiettivo possiamo controllare gli ISO, per cui con due mani, però senza dover aprire il menu, noi possiamo gestire in toto l'esposizione. Questa personalmente è una cosa che mi piace molto e che secondo me eleva questa macchina molto al di sopra di altre macchine entry level, perché appunto possiamo essere molto rapidi a lavorare in manuale, come piace a me, cambiando tutti i parametri semplicemente con una rotella. Inoltre, per i feticisti del joystick, questa macchina possiede anche il joystick. Io personalmente non lo uso praticamente mai, perché su una macchina come questa trovo che sia molto più pratico usare lo stesso pollice che si userebbe per il joystick, ma metterlo sul display, più grande, più preciso, più veloce. Questa è la mia opinione, però per chi invece preferisse il joystick, eccolo, lui c'è. A questo punto direi saltiamo all'interno del menu così andiamo a vedere che cosa può fare questo gioiellino. Molto bene amici, eccoci qui come sempre all'interno del menu di ripresa fotografico. La prima cosa su cui andiamo a spipolare è il menu rosso, andiamo sulla tab numero 1. Qui abbiamo la qualità d'immagine, quindi ovviamente abbiamo la qualità RAW. Qui come sempre possiamo impostare RAW o C RAW, quindi RAW compresso e JPEG in tutte le sue varie declinazioni. Ovviamente il RAW ha la qualità maggiore e ci permette più post-produzione. Il JPEG è più leggero ed è più versatile ed è già pronto per i social e se scegliamo un JPEG più piccolo siamo già pronti per mandarlo al cliente finale magari già nel formato che ha richiesto. Personalmente io la sto utilizzando così, quindi RAW e niente JPEG. Abbiamo poi l'opzione Dual Pixel RAW che di default è disattiva. Se andiamo a vedere la guida, vedete che ci dice dopo la ripresa RAW con Dual Pixel RAW attivo è possibile usare le informazioni di Dual Pixel nell'elaborazione delle immagini con il software EOS. Quindi in sostanza se utilizziamo il software di Canon possiamo fare delle cose in più che con altri software non saremmo in grado di fare. Io le ho provate, credo che ogni tanto possano essere utili ma tendenzialmente tengo questa funzione spenta anche perché aumenta di parecchio il peso delle immagini. Rapporto dimensione foto. Qui possiamo scegliere di scattare quadrato se sappiamo già che andrà soltanto su certi tipi di social, 16 noni se sappiamo magari che andrà in un video oppure possiamo mantenere 16 noni se scattiamo in verticale e se sappiamo che finisce nelle storie oppure possiamo scattare in 4 terzi ma io vi consiglio di scattare sempre con il rapporto reale del sensore ovvero 3 a 2. In questo modo abbiamo più informazioni e possiamo sempre andare a ritagliare la nostra foto in post produzione. Passiamo alla seconda tab, qui abbiamo il menu di compensazione dell'esposizione e bracketing. Queste sono due opzioni che io utilizzo singolarmente quindi la compensazione dell'esposizione non la uso mai mentre uso singolarmente il bracketing. Questa è l'opzione che serve quando vogliamo fare tre o più fotografie della stessa identica scena con la macchina ferma su tre piede per andare poi a miscelarla in post produzione e ottenere uno scatto con più informazioni. Andiamo a impostare i nostri step di bracketing e andiamo a dirgli ok perché altrimenti non rimane memorizzato. In questo momento vedete che è rimasto in memoria. Se lo vogliamo togliere torniamo qui e lo togliamo. Come potete vedere la compensazione dell'esposizione è in grigio e off. Questo perché sono in manuale sulla mia ghiera dei modi. Se io vado a mettere priorità di diaframmi per esempio nel momento in cui torno qui vedete che la mia compensazione dell'esposizione è attiva e non solo. Qualcuno l'aveva anche impostata su un valore di sovraesposizione. Non sono stato io, non sono l'unico che ha maneggiato questa macchina e quindi adesso la rimettiamo a zero. Ma tanto è una cosa che probabilmente io non userò perché io la uso sempre in manuale. Impostazioni sensibilità ISO. Anche questo è molto importante perché ci dà il valore ISO che stiamo utilizzando correntemente. Inoltre possiamo anche metterlo in automatico. Ci dà la gamma quindi da 100 a 3200 e io posso anche spanderli a 51200 ma io potrei anche decidere per esempio che non voglio andare sopra 12800 e quindi quando vado a impostare i miei ISO non sarebbero disponibili tutti i valori superiori. Io lascio la gamma intera perché non si sa mai potrebbe servirmi. Gamma in automatico. Vedete che di default è impostata a 6400 vuol dire che se sto lavorando in automatico la macchina non mi permetterà di andare oltre questa soglia ma io invece preferisco dargliene una un po' più alta. Io potrei anche dirgli che non deve andare sotto ISO 400 in automatico per esempio. Questo serve a limitare la gamma se so che sto lavorando in scene di un determinato tipo e voglio che gli ISO rimangano su valori che conosco e che posso controllare. Velocità minima, otturatore. Qui siamo in automatico. Io qui preferirei andare a dargliela in manuale caso mai la usassi ma siccome non la uso la lascerò così com'è. Subito dopo vediamo che abbiamo le riprese in HDR-PQ. Questa è una modalità che cattura delle immagini HDR in automatico. Personalmente non l'ho mai utilizzata. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa un approfondimento. Modalità HDR. Abbiamo parlato di questa modalità in un video dedicato in cui utilizzavamo Canon EOS R. Vi consiglio di andare a rivedervi quel video perché ne parlo approfonditamente. Qui non ne ho il tempo. È un'altra modalità per acquisire automaticamente una fotografia HDR facendo tre scatti con la mia macchina che mi dà automaticamente un file già elaborato. Ottimizzazione automatica della luce e priorità tonalità chiare sono opzioni che francamente tengo sempre off. Non ho mai trovato un contesto in cui utilizzarle efficacemente. Mentre scan anti flicker può essere utile. Nel momento in cui lo attiviamo se esistono sulla nostra scena delle luci che producono un effetto flickering quindi quello sfarfallio fastidioso la nostra macchina andrà potenzialmente a ritardare lo scatto in modo da mancare questo lampeggiamento fastidioso e avere un'immagine esposta tutta correttamente. Andiamo avanti. Qui abbiamo controllo flash e questo serve nel momento in cui andiamo a scattare con il nostro flash. Sono delle opzioni che personalmente non uso mai perché preferisco controllare i miei flash esterni con i loro controlli. Se volete degli approfondimenti come sempre fatemelo sapere. Modo di lettura. Qui abbiamo i nostri soliti quattro modi di lettura. Personalmente io di solito uso o misurazione parziale o lettura spot perché vanno a interessare il centro del fotogramma. In questa maniera io riesco a leggere più o meno l'esposizione corretta sul mio soggetto e poi tanto lavorando in manuale me la gioco la prima volta per trovare il bilanciamento giusto e poi la tengo sempre così come l'ho impostata. Andiamo sulla tab numero 4. Abbiamo bilanciamento del bianco. Qui è impostato su automatico ma come sapete io preferisco andare a gestirmelo direttamente in kelvin e di solito tengo un valore di 5600 ma dipende dal contesto. Posso anche andare a scegliere un valore preimpostato come luce diurna oppure ombra a seconda del contesto. In molti contesti ho riscontrato che luce diurna cioè 5600 va bene e quindi di solito me la gioco così. White balance personalizzato. Questa è una funzione che mi permette di andare a prendere l'ultima foto fatta o una delle ultime foto fatte e impostare il bilanciamento del bianco corretto che c'era in quella foto. Quindi è un'opzione che può servire ma personalmente vi consiglio di giocarvela da qui più preciso più efficace. Shift white balance questo vi consiglio di non toccarlo mai perché è un'impostazione che poi ci dimentichiamo di aver toccato la lasciamo così quindi non la toccate al massimo facciamo delle modifiche poi imposte se scattiamo in raw. Spazio colore qui è correttamente impostato su srgb se noi scattiamo in jpeg e vogliamo le foto già pronte questa è l'impostazione da usare invece se scattiamo sempre in jpeg e vogliamo lavorare un minimo o stampare le nostre foto è meglio ad ob rgb in questo caso io lascio srgb. Stile foto adesso andiamo a modificare un po' cose che prima avevo lasciato come le avevo trovate. Auto non l'ho mai usato in vita mia io di solito preferisco impostarmi un utente 1 e poi andare a impostarmelo e quello che faccio di solito è che gli do un pelino più di intensità un pelino più di precisione la soglia e il contrasto li lascio così anzi forse il contrasto lo diminuisco un pelo la saturazione la lascio com'è la tonalità la lascio com'è e così dovremmo essere in bolla. Queste sono le impostazioni che io utilizzo di solito quando scatto direttamente jpeg in macchina chiarezza questa dovrebbe andare ovviamente ad aumentare la clarity della nostra foto però in vita mia ho riscontrato che andando a metterla su un valore diverso da zero altre funzioni vengono inibite per cui la lascio sempre a zero. Filtri creativi di ripresa non li ho mai usati fatemi sapere se vi interessa che facciamo un bel approfondimento anche su questo. Andiamo avanti correzioni aberrazione dell'obiettivo qui di default io le trovo on mentre su modelli precedenti mi pare di ricordare che fossero off quindi io lascio queste cose così come sono perché se sono on di default probabilmente aiutano. Riduci disturbo lunghe esposizioni io questo lo tengo disattivato di questo parleremo in un video dedicato perché sul rumore delle lunghe esposizioni ho fatto una scoperta molto interessante fatemi sapere in un commento se vi interessa perché ne parleremo prossimamente. Riduzione disturbi alta sensibilità ISO io uso sempre standard devo dire che se la cava piuttosto bene. Dati eliminazione polvere questo serve se abbiamo della polvere sul sensore ma io questo non l'ho mai usato in vita mia. Ora sulla tab numero 6 abbiamo un paio di funzioni interessanti che sono l'esposizione multipla nel momento in cui andiamo a attivarla possiamo scattare più foto in sequenza e si andranno a sommare le esposizioni. Un giochino carino che però personalmente io vi consiglio di fare in post secondo me viene meglio. Dopodiché abbiamo scatto continuo in row questa mi sembra di capire che è una modalità con cui noi abbiamo un pre roll nel momento in cui andiamo a scattare. Un'altra funzione che non ho mai usato e che dovrei andare a indagare maggiormente prima di parlarvene approfonditamente. Bracketing fuoco invece di questo possiamo parlarne. Il bracketing fuoco è una funzione molto interessante nel momento in cui lo attiviamo possiamo andare a dire alla macchina quanti scatti deve fare e con che incremento di fuoco e la macchina andrà a fare tot scatti andando a cambiare il punto di messa a fuoco in maniera tale da poter fare un focus bracketing con le immagini che otteniamo e possiamo averlo direttamente in macchina con un jpeg che ci viene sfornato già pronto oppure possiamo salvare tutti i nostri file e andare a farci il focus bracketing direttamente in post produzione. Andiamo avanti abbiamo modalità drive queste qui sono le classiche modalità drive di cui probabilmente vi ho già parlato mille volte abbiamo scatto singolo scatto continuo veloce più scatto continuo veloce scatto continuo lento e poi abbiamo le modalità col timer o col comando remoto. Ora queste modalità vanno scelte in base a quello che stiamo facendo sicuramente scatto continuo veloce si usa nel momento in cui vogliamo catturare più immagini possibili facendo una raffica mentre scatto singolo si utilizza se vogliamo fare una singola foto e poi ci fermiamo per riguardarla o per riflettere. Le modalità con il timer servono se abbiamo la macchina su tre piede e non abbiamo un comando remoto quindi vogliamo premere lo shutter e poi lasciare che la macchina si stabilizzi e che non abbia vibrazioni oppure se vogliamo fare un autoscatto. Timer intervallo questo è molto interessante perché noi qui possiamo andare a fare dei timelapse impostandoli direttamente in macchina una cosa per cui una volta serviva un intervallometro un dispositivo che io ho utilizzato e di cui vi ho anche parlato nel video in cui parlavo della fotografia infrared tutte queste cose adesso è possibile farle via software direttamente in macchina il che è molto interessante. Funzione otturatore silenzioso questo è molto interessante perché ci permette di utilizzare un otturatore digitale e quindi andiamo a fare uno scatto che non ha più nessun tipo di rumore perché non c'è più nessuna parte meccanica in movimento. Ovviamente qui vediamo nella guida che ci sono alcune funzioni che vengono disabilitate tra cui per esempio lo scatto con il flash quindi nel momento in cui utilizziamo l'otturatore elettronico abbiamo una serie di limitazioni. Modalità otturatore elettronico prima tendina vedete questo è interessante perché noi qui possiamo scegliere tra otturatore meccanico quindi un otturatore che fa il suo solito rumore otturatore elettronico prima tendina quindi una via di mezzo e otturatore puramente elettronico. Se volete saperne di più su questi tre tipi di otturatore c'è un video dedicato in cui parlo esattamente di questo tema nello specifico vi consiglio di andarlo a recuperare perché ne parlo in maniera più approfondita di quanto riesco a fare in questo contenuto. Rilascio otturatore senza scheda off quindi se scattiamo senza una memory card non scatta neanche secondo me è meglio tenerlo così. Modalità stabilizzazione questo è molto interessante su questo obiettivo che mi hanno dato in dotazione non ho il selettore della stabilizzazione per cui si va a gestire interamente da qui. Modalità stabilizzazione di immagini sì quindi in questo momento la stabilizzazione è attiva stabilizzazione digitale è su off. Io potrei abilitarla e vi dirò che in qualche occasione l'ho anche già fatto. È una funzione che io non amo perché la maggior parte delle volte va a introdurre un po' di crop e un po' di artefatti nella mia immagine che io non amo per cui preferisco tenerlo off quando non è strettamente necessario. Abbiamo poi una personalizzazione del quick control personalmente questa non la tocco. Scatto a tocco è disattivata. Se io la attivo ogni volta che vado a toccare lo schermo la macchina mette a fuoco e poi scatta in quel punto. Lo trasforma un po' in uno smartphone volendo. A me non piace questa opzione quindi la tengo disattivata. Visione immagine serve a decidere quanto a lungo vediamo la nostra foto dopo che l'abbiamo scattata. Secondo me due secondi sono più che sufficienti. Andiamo avanti e qui abbiamo delle opzioni interessanti. Simulazione di visualizzazione. Qui abbiamo delle opzioni interessanti perché possiamo decidere che cosa vediamo a monitor. Quindi se vediamo l'esposizione e la profondità di campo reale. Se vediamo solo l'esposizione con una profondità di campo simulata. Opzione che io trovo particolarmente interessante abbiamo disattiva. Quindi il monitor cercherà di farmi vedere la scena come è veramente quindi non filtrata dai parametri di esposizione della macchina. Molto utile se stiamo scattando col flash per esempio perché il flash non lo vediamo in esposizione lo vediamo dopo lo scatto. Quindi attivare questa funzione anzi disattivare questa funzione quando scattiamo col flash secondo me è consigliato. In questo momento lo lascio così però. Vista mirino ottico anche questa è un'opzione che cerca di riportarci a quello che era il mirino prima dell'avvento del viewfinder digitale. Quindi se la attiviamo dovremo avere una visione più veritiera rispetto a quello che è veramente la scena e quindi va a bypassare quello che noi andiamo a fare in camera modificando quindi la nostra esposizione. Mostra infoscatto. Qui possiamo andare ad avere tutta una serie di informazioni. per esempio l'istogramma impostato sulla luminosità, la griglia 3x3. Sono tutte impostazioni di cui ho già parlato in tanti altri video. Possiamo andare a personalizzarla per avere come le vogliamo. Inverti display. Questa è una funzione che serve per vedere l'immagine specchiata nel momento in cui giriamo il display in modalità selfie. Formato visualizzazione mirino. Io tengo sempre l'immagine grande. Prestazioni visualizzazione. Abbiamo un risparmio batteria e un fluido. Io sto tenendo il fluido. Andiamo avanti e qui abbiamo delle opzioni video che però sono un po' falsate nel senso che qui siamo in modalità foto. Siamo in modalità M quindi in modalità foto. Le informazioni per i video andremo a vederle dopo quando andremo a spostarci in modalità video. Adesso passiamo in modalità autofocus. Ora per quanto riguarda l'autofocus ho un intero video dedicato a come funziona l'autofocus sulle mirrorless di Canon. Quindi vi consiglio di andarlo a recuperare. Adesso vediamo solamente le cose principali. Quindi one shot contro servo. One shot mette a fuoco una volta quando noi andiamo a premere a metà corsa lo shutter. Mentre servo mette a fuoco continuamente il nostro soggetto e quindi lo segue anche se si sposta. Area di autofocus. Qui possiamo scegliere le aree. Quindi l'intera area oppure il punto singolo. I punti con un minimo di tolleranza. Le zone. Abbiamo la possibilità di personalizzare dove la nostra macchina andrà a mettere a fuoco a seconda della scena. In seguimento soggetto ovviamente sì. Possiamo anche spegnerlo però è meglio tenerlo attivo visto che questa è una delle cose belle delle mirrorless. Soggetto da rilevare. Io gli ho messo persone però abbiamo anche animali, veicoli o nessuno. Io tengo persone. Tanto la macchina, la scena la capisce. Semplicemente dicendogli che cosa stiamo fotografando ci mette di meno a capire qual è la scena. Rilevamento occhi è attivo. Io posso disattivarlo e quindi passa in rilevamento volto ma tanto vale tenerlo attivo è più preciso e funziona meglio. Cambio soggetto in seguito. Questo serve a stabilire con che velocità la macchina cambierà soggetto nel momento in cui entra in campo qualcosa di nuovo. E andiamo a vedere i casi di autofocus. Noi abbiamo automatico quindi si adatta e va a scegliere la macchina in base a quello che sta vedendo. Quello però che trovo molto interessante è che abbiamo quattro casi che si adattano in maniera diversa ai nostri soggetti. Abbiamo delle iconcine che ci fanno capire che tipo di scena stiamo andando a fotografare. Ho già parlato approfonditamente di tutte queste funzioni nel mio video sulle funzioni di autofocus quindi veramente andatevelo a recuperare perché ne parlo in maniera più approfondita. Una cosa che ci tengo però a farvi vedere sono le impostazioni di peaking quindi il peaking posso attivarlo e quindi vado a leggere delle zone di colore rosso con un livello alto nel punto in cui vado a mettere a fuoco. Questo è un ausilio quando si mette a fuoco in manuale. Quindi io adesso lo vado a spegnere perché tanto sono in autofocus però questa è un'opzione molto utile secondo me se mettiamo a fuoco in manuale. Guida di messa a fuoco? Sì, questo è un altro ausilio che serve per andare a mettere a fuoco in maniera più agevole con un rilevatore che ci dice se siamo a fuoco oppure no. Autofocus servo sui filmati attivo quindi abbiamo la messa a fuoco automatica continua durante le riprese video e qui abbiamo un po' di funzioni che ci permettono di regolare le ghiere perché questi obiettivi hanno la messa a fuoco motorizzata. Per quanto riguarda il menu azzurro non vado a farvelo vedere tutto qui. Vi consiglio di andare a recuperare il video in cui parlavo del menu di Canoneos 5D Mark II perché in quel video siccome questo menu è abbastanza corposo anche su quella macchina e siccome la 5D Mark II non ha un menu molto vasto avevo analizzato nel dettaglio questo menu che qui adesso non vado a farvi vedere per intero perché sarebbe lunghissimo. Questo è un menu con cui possiamo organizzare e modificare le immagini che abbiamo scattato. Andiamo invece al menu connettività e qui abbiamo il wifi e bluetooth e questo è interessante perché con questo menu possiamo collegare la nostra fotocamera a un telefono cellulare o a un altro dispositivo per usare lo smartphone come comando remoto per esempio oppure per passare le immagini dalla macchina direttamente allo smartphone. Sono tutte cose molto interessanti che ci permettono di fare qualcosa di tecnologicamente un po' più smart seppur utilizzando la nostra fida fotocamera con la sua bella qualità d'immagine. Passiamo al menu chiave inglese. Noi qui abbiamo tutte le opzioni come formattazione card, la lingua, la data e l'ora, l'autorotazione, la numerazione dei file. Abbiamo il sistema video questo è molto importante. Io ho impostato NT e sì perché lo preferisco ma se stiamo lavorando in un contesto con luce elettrica, luce artificiale che produce un effetto flickering andiamo a mettere PAL e risolviamo il problema. Abbiamo poi le impostazioni del BIP che io adesso vado anche a disattivare il BIP quando andiamo a mettere a fuoco che all'inizio è bene tenere finché non si prende la mano ma poi si può disattivare. Visualizzazione schermo e mirino io qui ho la possibilità di dirgli che quando vado ad avvicinare qualcosa a questa fotocellula si passa in modalità oculare. Io potrei anche dirgli solo schermo e quindi quando vado qui davanti vedete che rimane sullo schermo. Sono cose che si utilizzano in base a quello che si sta facendo. Io personalmente adesso la lascio così perché mi fa comodo. Quando la uso in modalità ibrida è molto comodo che si comporti esattamente in questo modo. Abbiamo poi le regolazioni separate di luminosità schermo e luminosità mirino. Questo lo trovo molto interessante ed è una cosa che mi avvantaggia rispetto all'oculare ottico perché in questo modo io posso andare a stabilire separatamente la luminosità di quello che vedrò qui dentro quando vado ad appoggiare l'occhio. Questa è una cosa che trovo molto interessante del mirino digitale. Controllo tocco. Qui possiamo modificare la sensibilità del nostro schermo touch e lo lascio su standard. Pulizia sensore. Qui abbiamo delle opzioni di autopulizia oppure possiamo andare a dire alla macchina che vogliamo pulire manualmente il sensore. Abbiamo la possibilità di impostare degli scatti personalizzati quindi C1 e C2 custom 1 e 2. Abbiamo le informazioni sulla batteria. In questo caso pare che la batteria sia carica e in ottime condizioni. Informazioni di copyright. Io vi consiglio di inserirle sempre le impostazioni di copyright perché vi tornano utili se qualcuno poi vi ruba le immagini. Abbiamo poi un URL con il manuale, la versione del firmware e passiamo al menu arancione scuro. Qui abbiamo una serie di opzioni. Incremento livello di esposizione. Noi possiamo decidere se lavorare per un terzo di stop o un mezzo di stop. In questo caso secondo me è molto comodo un terzo. Mentre per quanto riguarda gli incrementi dei valori ISO di default è su un terzo di stop ma io preferisco lavorare per stop interi. Ho già parlato approfonditamente in un altro video del motivo. Vi consiglio di andare a recuperare anche quello. Annullamento auto bracketing on. Questa è una cosa interessante. Io vi consiglio di lasciarla on questa cosa. Quando andate a impostare un valore di bracketing allo spegnimento della fotocamera questo bracketing si azzera e la macchina torna a funzionare normalmente. Personalmente vi consiglio di lasciarlo acceso. Sequenza di bracketing io non la tocco mai ma potete modificarla quindi potete decidere se andrà a fare prima lo scatto a zero poi lo scatto sottoesposto e poi lo scatto sovraesposto oppure il contrario. Io lo lascio così è una questione puramente preferenziale. Numero di scatti bracketing questo invece è importante. Di default noi facciamo tre scatti in bracketing quindi tre esposizioni diverse ma possiamo anche farne due cinque o sette. Mi è capitato di farne cinque in pochissime occasioni ho avuto bisogno di farne sette quindi io vi consiglio di tenerlo su tre per la maggior parte degli utilizzi. Saltiamo al menu numero tre qui abbiamo personalizza pulsanti. Questo è interessante perché vedete qui abbiamo tutta una serie di pulsanti a cui possiamo abbinare una funzione quindi per esempio una cosa che io faccio molto spesso è quella di abbinare a questo tasto la zebra quindi in questo momento se io adesso vado a premere il tasto asterisco attivo e disattivo la zebra sulle mie esposizioni. Possiamo metterci quello che vogliamo ovviamente questa è solamente la mia impostazione. Personalizza ghiere anche questo è molto interessante io personalmente non le ho toccate le ho lasciate come le ho trovate quindi questa è la ghiera dei tempi questa è la ghiera dei diaframmi una cosa che ho fatto però è che ho impostato gli iso sul control ring del mio obiettivo quindi se vado a girare la ghiera sul sul mio obiettivo vado a modificare gli iso in questo modo come vi dicevo prima con tre ghiere modifico l'esposizione anche in modalità manuale e poi qui abbiamo cancella impostazioni personalizzate così riportiamo la macchina esattamente come era prima. Qui abbiamo un'opzione interessante ve ne parlo perché in certi casi può tornare utile rilascio l'otturatore senza obiettivo di default su off adesso noi lo mettiamo su on e vi spiego perché perché se dovete montare un'ottica con adattatore o un'ottica senza autofocus la macchina non la rileva e quindi non vi scatta la foto e non vi fa partire i video se non mettete quest'opzione on. Ritrazione obiettivo allo spegnimento tanto vale lasciarlo on se abbiamo un obiettivo che si ritrae da solo quando spegniamo la macchina si ritrarrà in caso contrario non succederà assolutamente niente. Cancella tutte le funzioni personalizzate di nuovo questa è un'opzione che vi resetta un po' di cose che avete fatto sulla macchina. Passiamo al menu verde al menu stella questo è un menu dove tu puoi andare a personalizzare una scheda quindi ti aggiungi una nuova tab che si colloca qui si colloca al numero 2 3 e così via e si possono andare a inserire delle funzioni che utilizzi spesso quindi delle funzioni che ci sono all'interno della macchina le troverai tutte impilate in un nuovo menu che ti vai a creare ma adesso è il momento che vi avevo promesso e quindi andiamo a impostare la macchina in modalità video perfetto in questo momento la macchina è impostata in modalità video torniamo sul nostro menu e come potete vedere adesso è tutto diverso perché siamo nel sistema operativo video quindi primo menu possiamo scegliere se andare a esporre in automatico oppure manualmente personalmente scelgo sempre il manuale dopodiché abbiamo dimensioni filmato qui abbiamo tutte le nostre risoluzioni possibili io sto girando come sempre in 4k a 23 frame al secondo se avessi impostato modalità palla avrei avuto 25 fotogrammi al secondo invece di 24 frame rate alto di default è impostato su no io potrei dirgli attiva e quindi andrei a registrare in full hd a 120 frame al secondo per fare lo slow motion interessante sapere che c'è registrazione audio questo è molto importante che sia in manuale e che andiamo a gestirlo quindi vedete noi qui andiamo ad avere una lettura su quanto sono alti i nostri livelli audio e dobbiamo andare a impostarli in maniera tale che non clippi quindi vi faccio un esempio se io alzo il volume vedete adesso è troppo alto vedete che sta cominciando a clippare questo non deve assolutamente succedere io devo tenerlo su un valore tale per cui stia nei pressi del meno 12 in questa maniera non dovrebbe clippare dovrei avere una qualità che mi permette anche di lavorare l'audio filtro vento disattivato riduzione disturbo audio disattivato perché queste sono cose che voglio fare semmai in post voglio l'audio più pulito possibile andando avanti abbiamo tutte le opzioni di cui abbiamo già parlato che rimangono più o meno come sono con l'eccezione di stile foto che qui dobbiamo reimpostare e qui possiamo andare a ridargli utente 1 e possiamo andare a dargli dei nuovi parametri e in questo caso ci conviene farlo perché su questa macchina non abbiamo la modalità di registrazione log che io utilizzo invece correntemente su Canon EOS R7 è quella con cui sto registrando proprio adesso quindi siccome qui non avremo tanto spazio di manovra in post produzione è meglio se mettiamo un po' di mano adesso chiarezza nuovamente non la tocco perché va a inibire altre funzioni qui abbiamo tutte le opzioni di cui abbiamo già parlato e quindi è inutile andarli a rivedere un'altra cosa di cui vi parlo è la disposizione dei pulsanti noi ovviamente abbiamo un monitor touch quindi possiamo andare a toccare per mettere a fuoco e molte cose possiamo farle direttamente da qui per esempio se io premo il pulsante iso posso andare a modificare il valore degli iso vero anche che per come impostata la macchina io posso modificare tutti i parametri semplicemente colleghiere quindi non ho bisogno di giocarci tanto devo dire la disposizione dei bottoni è abbastanza comoda qui posso andare a rivedere le immagini che ho già scattato vedete queste qui sono immagini del lago di como che vi farò vedere in un prossimo video qui vicino allo shutter abbiamo un piccolo pulsante funzione che secondo me è molto utile perché ci fa accedere a tutta una serie di opzioni inoltre con il pulsante q abbiamo a disposizione gran parte delle opzioni che abbiamo visto prima tra cui i punti di autofocus la modalità one shot osservo il formato raw piuttosto che jpeg e un sacco di altre funzioni tra cui il formato i modi di lettura la temperatura e un sacco di altre cose che qui possiamo andare a selezionare molto più rapidamente piuttosto che tornare sempre all'interno dei menu io credo con questo di avervi dato una panoramica di che cosa può fare questa macchina non dimentichiamo di menzionare ovviamente il display pienamente articolabile che è un'altra caratteristica che non mi dispiace per niente su questa macchina e a questo punto direi che possiamo andare a spegnere la nostra canoneos r10 perché più o meno quello che ci interessava l'abbiamo visto bene amici eccoci qui di nuovo in studio per le considerazioni finali come avete visto si tratta di una macchina carina che non è chiaramente una miraglia però ha delle funzioni che sono abbastanza avanzate secondo me con una macchina del genere noi riusciamo serenamente a lavorare anche seriamente anche a livello professionale il problema il grosso problema di questa macchina almeno per quanto mi riguarda e il motivo per cui ho preferito r7 che è la macchina con cui sto registrando adesso è la batteria questa qui è la lp e 17 batteria che io non amo per niente perché è una batteria meno capiente io ho preferito r7 proprio perché ha una batteria che mi permette di lavorare più a lungo ora c'è anche da dire una cosa giorno d'oggi questo problema sarebbe facilmente bypassabile perché noi possiamo attaccare la fotocamera direttamente alla corrente con il suo cavetto dedicato che è un usb c che ho già recensito in un altro video per cui andatevelo a recuperare inoltre possiamo anche attaccare delle batterie supplementari quindi possiamo con lo stesso cavetto con un cavetto usb c qualsiasi andare a collegare una batteria che va quindi ad alimentare la nostra fotocamera mettendo in stand by la nostra batteria piccolina quindi è un problema diciamo bypassabile però a me piace lavorare comodo e quindi ho preferito r7 però devo dire che giocando con questa macchina mi sono trovato bene la macchina risponde bene funziona bene la messa a fuoco funziona benissimo il formato delle immagini è assolutamente soddisfacente la resistenza agli alti iso è un qualcosa che in anni passati era difficile ottenere perfino sulle ammiraglie quindi è una macchina entry level che costa un po di più rispetto agli anni passati però secondo me è un entry level che dà tanto e quindi è una macchina che io consiglio a chi vuole cominciare a fare fotografia ma è abbastanza serio nel senso che è convinto di voler portare avanti la cosa in questo senso è un'ottima macchina per cominciare ma per cercare di salire già verso un livello discreto per poi eventualmente passare a qualcosa di ancora più potente però è una macchina che secondo me non delude nel corso dei prossimi video andrò a mostrarvi delle fotografie che ho già cominciato a fare con questa macchina e anche dei video che ho già cominciato a fare ho già fatto due lavori con questa macchina domani farò il terzo insomma la sto sfruttando quando mi mandano qualcosa da provare lo sfrutto perché intanto mi fa comodo e poi provo qualcosa di nuovo e poi ho qualcosa da raccontarvi quando faccio i miei contenuti per recensire la strumentazione andremo a parlare anche dell'obiettivo che è un 18 150 un obiettivo rfs quindi dedicato al sensore apsc anche questo devo dire non si sta comportando male ma andremo a parlarne meglio nei prossimi contenuti per cui iscrivetevi così non ve li perdete signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io e canon vi diamo appuntamento al prossimo video